Ciao a tutti ragazzi, oggi arriveremo al lago del Turano Sono rimasto da solo, non ho più nessuno né avanti né dietro Oh, di sonza, che è successo? Oddio è caduto qualcuno, no! Ecco qua No, ma non c'è la visiera, perché c'è lì, è bloccato? No, colori? Per l'acqua Scusate, ho trovato l'impargo che stavo dietro, ma non c'è Il funerio di iniziare, non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo Per un'altra parte, è un'altra parte, un'altra parte d'un lago E poi a più, è un'altra parte d'un lago Quale è l'altra parte d'un lago? C'è un'altra parte d'un lago? C'è un'altra parte che ti stiamo a due suoni No, 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 no. Grazie a tutti. Siamo arrivati al lago del Turano ragazzi. Ora piano piano proverò a girarmi. No, non ce la faccio. Questo è il massimo che riesco a fare. Tutto al più, questa epocation che ho ripreso farò tipo effetto, non so, effetto qualcosa per rendervelo più bello. Non penso ci fermeremo per fare qualche foto. E quindi non riuscirò a fare neanche video migliori di questi del lago, video diciamo panoramici, in quanto eravamo non so in due tipo, siamo rimasti in tre perché gli altri ci hanno seminato, ci hanno proprio fumato perché c'è uno va a vedere un posto però deve correre, non so il motivo. Quindi niente, ora penso faremo una pausetta caffè però non penso di riuscire a fare le riprese del lago. Siamo ripartiti dal bar, abbiamo preso un caffettino, gli altri li abbiamo completamente persi. Per evitare di tornare a Roma ad orari assurdi non ho potuto fare video panoramici comunque del lago, mi sarebbe piaciuto comunque portarvi almeno una foto o altro ma purtroppo non sono riuscito a riprendere niente perché appunto non vogliamo tornare a Roma ad orari assurdi. Ora torniamo a casa, abbiamo deciso di deviare diciamo il percorso e fermarci a Tivoli per vedere, non mi ricordo cosa, mi sa delle cascate, non mi ricordo cosa, comunque dopo che ne raggiungiamo vediamo. No, c'è una tacchetta in più in mezzo al serbatoio, credo bassi. Eh? Sono quasi a riserva, la mente. No, c'è una tacchetta in più. 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 non sta reggendo, quindi purtroppo per voi e anche per me che non posso tenerlo come ricordo, niente cascate che stanno qua a Tivoli. quindi ci vediamo al prossimo video, lasciatemi un commento se vi va, ditemi se il video vi è piaciuto o meno, se vi va lasciatemi anche un mi piace, e niente seguitemi su Facebook e anche su Instagram e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao, ciao!